L'opera Trasporto di Roma è stata dipinta nel 1990 da Enzo Cucchi, artista visionario di fama internazionale, capace di far emergere sulla tela immagini piene di memorie e miti provenienti sia dalla sua terra d'origine, le Marche, che da quella di adozione, Roma. Cucchi è uno dei protagonisti della transavanguardia, corrente artistica sviluppatasi negli anni 80 del Novecento, che afferma il primato dell'arte al di sopra di ogni ideologia, condensando stile astratto e figurativo in un'unica opera. L'opera che avete di fronte rappresenta un paesaggio naturale, che si diluisce con lo scafo di un piroscafo. Questo si scontra con una grande testa femminile simile a quelle che fanno capolino sui monti. Una narrazione onirica di un miraggio, di un incontro-scontro tra arte e umanità. Sul lato sinistro, oltre la tela, una parte in ceramica rappresenta una mezza raggera di sole, che suggerisce l'immagine di un motore, di un fuoco, di un'energia che muove quanto è rappresentato nella tela.